Concorsi universitari sotto la lente di ingrandimento, vediamo perché. Convegno a Palermo su trasparenza e merito nei concorsi universitari, che spesso sono seguiti da contenziosi, ricorsi al TAR, denunce penali, ricorsi al Consiglio di Stato, interrogazioni parlamentari. L'accusa è che spesso vengano costruiti su misura, con richieste scientifiche particolari, per candidati già identificati prima come vincitori. Spesso i concorsi universitari in Italia vengono cuciti addosso su un candidato che poi risulterà il vincitore. Negli ultimi anni questo problema si è accentuato e decine e decine di concorsi ogni anno hanno già identificato un vincitore ancora prima che il concorso venga fatto. Il bando del concorso viene cucito addosso su questo soggetto. La legge Gelmini 240 del 2010 vieta bandi di concorso costruiti ad hoc sulle specializzazioni di un determinato candidato e l'associazione Trasparenza e Merito ne chiede l'applicazione in tutti i concorsi, da quelli di ricercatore a quelli di associato e di ordinario. Noi vogliamo che questi episodi di Malla Università, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore, vengano alla luce, vengano denunciati pubblicamente sia presso i mezzi di informazione sia presso le competenti sedi giurisdizionali, in modo tale da restituire un minimo di credibilità all'istituzione universitaria nazionale.